Salve gente e benvenuti sul canale youtube MaxCalifornia86. Per il video di oggi vi parlerò di un film che attendevo fin da quando è stato annunciato e sto parlando di Pinocchio di Guillermo del Toro, film arrivato su Netflix il 9 dicembre. I più fortunati hanno avuto la possibilità di vederlo in alcune sale dal 4 dicembre. Questo film mi interessava perché non solo era diretto da Guillermo del Toro, un regista che apprezzo, ma anche perché aveva questa novità della stop motion, tecnica utilizzata anche per il film d'animazione Nightmare Before Christmas. Già questo elemento di novità dovrebbe portare lo spettatore a correre subito su Netflix e vederlo, anche se non si è fan di Guillermo del Toro. Volevo ricordarvi che avete ancora tre giorni di tempo per partecipare al mio video natalizio interattivo, inviando un mini video di 40 secondi nel quale dite qual è il vostro film da vedere durante le feste di Natale e perché. Potete inviarlo all'indirizzo mail massimo.maglietta.hotmail.it. Ricordatevi che il termine per mandare i video è martedì 20 alle ore 20. Non so se riuscirò a fare una diretta in questo mese di dicembre, ho contattato alcuni ospiti ma non mi hanno ancora fatto sapere se sono impegnati o no prima di Natale o dopo Natale, quindi molto probabilmente dovrò rinviarla alla prima settimana di gennaio. Comunque vi parlo del Pinocchio di Guillermo del Toro dopo la sigla! Geppetta aveva un figlio di nome Carlo morto molto giovane. Il falegname non riesce a riprendersi da questa brutta perdita. In preda alla rabbia una sera taglia un pino che si trova vicino alla tomba del figlio Carlo, lo porta nella bottega e ci realizza un burattino. Guillermo del Toro sapeva già in partenza che fare un film simile al classico Disney del 1940 o alle diverse versioni uscite negli ultimi 82 anni sarebbe stato un flop. Il regista premio Oscar col film La forma dell'acqua ha deciso di fare una versione più dark della fiabba pubblicata da Collodi nel 1883, senza stravolgerla completamente ma cambiando soltanto alcune parti in modo da renderla più accattivante per lo spettatore di Netflix. Se dovessi fare una classifica delle varie versioni di Pinocchio uscite al cinema e in streaming negli ultimi 20 anni, al primo posto metterei questa di Guillermo del Toro, al secondo quella di Matteo Garrone, al terzo quella di Robert Zemeckis con Tom Hanks nel ruolo di Geppetto e al quarto e ultimo posto il film uscito nel 2002 con Roberto Benigni, regista e anche tra i protagonisti. Di questa versione di Pinocchio ho apprezzato l'ambientazione dark, la volontà di cambiare soltanto alcune parti della versione di Collodi, il concetto di morte all'interno del film, gli aspetti orrorifici e la bellezza del design dei personaggi realizzati in stop motion. La parte negativa potrebbe essere il fatto che questo film possa deludere alcune persone che si aspettano una versione simile a quella del film d'animazione del 1940 o alle altre versioni e fedele all'opera di Collodi. Stiglio la visione di questo film se siete fan di Guillermo del Toro, se avete consumato la VHS di Pinocchio quando eravate piccoli e se siete alla ricerca di una versione diversa di Pinocchio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube MaxCalifornia86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se il film lo avete visto o no, se vi è piaciuto o no e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane. Volevo ringraziarvi per il numero di follower in costante aumento su Instagram. Non sono grandi numeri però comunque sono dei piccoli traguardi. Vedo che i post e i reel che pubblico sul mio profilo Instagram Cinemax86 sono molto apprezzati. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter e Telegram nel quale trovate il mio gruppo MaxCalifornia86 al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sul cinema e le serie tv ma anche sui video che pubblico sul mio canale YouTube MaxCalifornia86. Un saluto e ad un nuovo video qui sul canale YouTube MaxCalifornia86. MaxCalifornia86. Un saluto e ad un nuovo video. Grazie a tutti.